È un gioco che viene attivato nelle scuole primarie e prevede l'incentivazione ai spostamenti utilizzando mezzi sostenibili come mezzi pubblici oppure andando a piedi o in bicicletta. Si chiama Annibale il Serpente Sostenibile ed è la mascotte del progetto di mobilità sostenibile destinato ai piccoli delle scuole elementari. Il progetto, a cui hanno già aderito 129 scuole del territorio nazionale, adesso è sbarcato anche ad Arezzo e vede coinvolti quattro istituti cittadini, Curina dell'Istituto Comprensivo Francesco Severi, Chimera del Comprensivo Giorgio Vasari e poi Masaccio e Santetani del Comprensivo 4 Novembre. Abbiamo deciso di applicare questo programma per incrementare quelle che sono le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile e dell'abbattimento delle emissioni climalteranti. È un gioco per i ragazzi che darà loro degli obiettivi, degli step intermedi che poi dopo saranno ripagati con delle piccole ricompense come 5 minuti in più per l'intervallo oppure altre attività ludiche. La campagna è dunque sviluppata per incoraggiare gli spostamenti a piedi e in bici con i bambini delle primarie ma anche genitori ed insegnanti in veste di principali destinatari. Ogni bimbo potrà rappresentare attraverso dei dischetti colorati la modalità sostenibile con la quale ha raggiunto la scuola. L'obiettivo quindi è quello di incentivare, incrementare l'utilizzo di mezzi sostenibili nel tragitto casa-scuola, incentivando appunto il percorso pedonale, l'uso della bicicletta o anche forme ibride di mobilità evitando la congestione del traffico che molto spesso si crea la mattina davanti al cancello scolastico. Dobbiamo combattere questa idea che si debba raggiungere il cancello della scuola con la macchina e provare a pensare che si può venire anche in un altro modo.